Siamo in compagnia di Isabella Pagnanelli che ci dona delle immagini di corti femminili nella maggior parte dei casi, che non hanno aggiunte di tipo naturalistico, quindi non sono colorate, non hanno chiaroscuri, non hanno ombre, sono delle tavole asciutte. Pensi Isabella che questo sintetismo di forma abbia a che vedere con un intento di capire o mettere in dubbio alcuni punti della personalità femminile? C'è sicuramente in primo luogo il piacere di un'espressione molto semplice, molto scarna, quasi grafica, che è sempre presente negli eventi. E sicuramente c'è anche una proiezione di me in queste opere, una proiezione che è venuta attraverso un progressivo, come dire, un progressivo levare, tornere, una progressiva spogliazione di me che ha portato, diciamo, fuori l'essenza. In queste opere mi sono scoperta, mi sono migliorata in qualche modo e questa scoperta di me è ritornata poi filtrata e torna sempre filtrata attraverso del guarno, ci devo vedere e mi proietta di nuovo qualche cosa di me che io scopro ogni volta di me. Questo sicuramente. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. and it's for water. Quindi, allo spettatore, l'ardua sentenza. Grazie. Grazie.